Gentili telespettatori, buona giornata. A carta bianca Massimo Cacciari promuove il governo Meloni. Dovrebbero dare la cittadinanza onoraria dell'area politica di centrodestra a Massimo Cacciari, che è un uomo di sinistra ma che ha preso completamente le distanze da questa sinistra che c'è oggi, definendola proprio impresentabile, inguardabile. Così, su Rai 3, proprio ieri, va in onda carta bianca, che prende in esame l'andamento e i risultati raggiunti finora dal governo Meloni. In studio c'era Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia, che elogia il premier per i successi raggiunti in politica estera. Tra i primi obiettivi di Meloni c'era quello di farsi accreditare agli occhi di Europa e Stati Uniti e c'è riuscito in pieno, come ha detto Cacciari a Berlinguer. I primi cento giorni di governo Meloni aveva il problema di farsi accogliere dall'Europa e da Stati Uniti. Mi pare, dice Cacciari, che ci sia riuscita. I binari su cui si può muovere il governo sono abbastanza obbligati in un paese con un debito pubblico. Altissimo. E su questo ha assolutamente ragione. Di diverso avviso è Gad Lerner, che ha invece criticato il governo. Finora Meloni ha usato molto la retromarcia. Dice Gad Lerner, l'incognita è se applicheranno i provvedimenti di destra identitaria dai migranti al reddito di cittadinanza. Tutti i provvedimenti che fanno piacere solo a una parte dell'elettorato. Ma quello del reddito di cittadinanza è già stato stabilito nella finanziaria, che al primo di gennaio del 2024 finisce il reddito di cittadinanza, ma verrà chiamato in un altro modo e verrà dato solo ad alcuni. Intanto il 31 di luglio finisce il reddito di cittadinanza per tutti quelli che hanno tra i 18 e i 59 anni e che possono lavorare. Quindi quello sul reddito di cittadinanza è già stabilito. Mentre sui migranti, la Meloni dice fatto, abbiamo cominciato a fermare i migranti. Gennaio è stato il record di arrivi di clandestini in Italia dal 2016. Ne parleremo poi in un prossimo video. Pertanto la retromarcia è stata utilizzata su provvedimenti che erano bandierine degli altri partiti. Insomma, sul POS a 60 euro è stata giustissima la retromarcia, ci mancherebbe altro. Sull'innalzamento del contante che doveva essere a 10.000 euro sceso a 5.000 va anche bene, quindi per fortuna, anzi io non l'avrei fatto. Sulla rottamazione delle cartelle che solo i comuni decideranno e non sarà sulle multe, ma non si sa su che cosa sia, ovviamente la retromarcia sul condono ha fatto benissimo a fare la retromarcia. Se voi notate, le retromarce sono state fatte tutte su bandierine salviniane che la Meloni voleva far realizzare per tenere buono Salvini e allontanarlo da Berlusconi. Ecco, quindi le retromarce sì, ci sono state, sono evidenti sotto gli occhi di tutti, però la maggior parte delle retromarce le approvo, anzi non bisognava andare avanti su quelle cose, fare la retromarcia, bisognava non farle proprio. Per quanto riguarda tutte le altre cose, in 60 giorni con un paese così indebitato la Meloni è riuscita a fare parecchie cose. Queste cose poi ovviamente bisogna tenere presente che sono fatte in un paese dove non puoi fare quasi niente, perché è un paese pieno, pieno zeppo di debiti. E con un paese così indebitato e messo dentro l'Europa, e che non può neanche agire sulla propria politica monetaria, capite che i termini di manovra sono ridotti al lumicino, perché l'Italia non può stampare moneta, non può agire sulla sua politica monetaria, non può agire per ridurre l'inflazione, per alzarla. Diciamo che quello che può fare un qualsiasi governo guidato da Meloni o da chiunque è molto, molto, molto poco, molto, molto limitato. Per questa ragione quello che ha fatto la Meloni in un paese di questo tipo è già molto, è già tanto, ecco. E sono i primi 100 giorni. Quello che non ha apprezzato l'elettorato è stato proprio il punto dell'immigrazione clandestina, perché molti che hanno votato credevano che realmente dopo una settimana la Meloni avrebbe immediatamente fatto quel famoso blocco navale. Non l'ha fatto immediatamente, ma sta cercando con la Libia, dopo il suo incontro, di fare degli accordi che portino al blocco navale. Ci sta andando con i piedi di piombo la Meloni perché non puoi andare lì e dire «eh, uè, ti do 500 milioni va bene, fanne quello che vuoi, non ne voglio sapere, ma fermami le barche». Non puoi andare lì in maniera prepotente a dire «ti do i soldi, fai quello che dico io». Anche se poi è ovvio che per fare un blocco navale devi andare lì a offrire dei soldi in sottoforma di mille modi. Ecco, quindi la realtà è quella, però devi capire anche come proporli questi soldi per non far sì che dall'altra parte recepiscano tutto come un'offesa, un affronto. Come? Vieni qui a volerci dare dei soldi per fermare le partenze, ma guarda che noi non siamo mica da corrompere. Ecco, bisogna anche andare lì e capire con chi si ha a che fare. Ecco, perché non si può dire che sono tutti uguali, che tutti sono corrotti, magari trovi la persona incorruttibile, ci fai una figuraccia e ti giochi la carta che non ti puoi più giocare. Quindi la Meloni è andata lì per conoscere sto premier, per capire anche fino a dove si può spingere a chiedere le cose, sta buttando le basi per un blocco navale. Sì, gli sbarchi con le ONG sono diminuiti dalla metà, ma gli sbarchi in gennaio complessivi sono i più alti dal 2016. Questo ne parleremo poi nel prossimo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra poco per un altro video. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia a seconda rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai-da-te. Grazie a tutti.